Si indaga a tutto campo sull'incendio di un autogru di una ditta di Ariano che opera nel settore del montaggio di impianti industriali. Ancora poco chiare le cause che hanno sprigionato le fiamme. Si batte ogni pista, non escludendo quella dolosa. Al lavoro gli agenti del commissariato del Tricolle, che hanno raccolto tutti gli elementi in sede di sopra al luogo. I poliziotti hanno sequestrato anche le immagini del sistema di videosorveglianza installato nell'area parcheggio per verificare se qualcuno si fosse introdotto all'interno con l'intenzione di appiccare il fuoco. Gli agenti della giudiziaria, alla guida del vicequestore Maria Felicia Salerno, hanno ascoltato il titolare dell'azienda che è rimasto scosso per quanto accaduto. L'incendio comunque è causato danni irrisori perché è circoscritto solo a due pneumatici anteriori. Le fiamme infatti non hanno per nulla interessato l'autogru risparmiando così le parti meccaniche. Tempestivo anche l'intervento del locale di staccamento dei vigi del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno verificato se nell'area fossero state lasciate tracce di liquido infiammabile. Il mezzo è un autogru di 70 tonnellate, utilizzato per il sollevamento di strutture metalliche, soprattutto in prossimità di cantieri per la costruzione di ponti. Non escluso che nel giro di pochi giorni si possa fare chiarezza sulle cause dell'incendio, grazie alla visione approfondita delle immagini del sistema di videosorveglianza. Grazie a tutti.